Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video della rubrica Indovina l'Elo, in cui analizzerò una partita che mi è stata inviata tramite Instagram e cerco un po' di spiegare gli errori commessi, ma soprattutto di indovinare il punteggio Elo online del giocatore o giocatrice che mi ha inviato la partita. Prima di cominciare ti chiedo di iscrivervi al YouTube, cliccando qui sotto attendo la campanella per non perdere i prossimi video. Inoltre d'ora in poi cerco di pubblicare con più costanza, quindi l'obiettivo sarebbe l'ideale, vorrei fare un video al giorno, se non ci riesco comunque almeno 4-5 video a settimana. Quindi ditemi nei commenti quale video, quale rubrica vi piace di più, quindi se volete vedere partite che gioco io live o appunto questa rubrica Indovina l'Elo o partite che commento recenti, carcere Nakamura o partite del passato, insomma qualsiasi idea pubblica vi viene in mente, ditemi nei commenti e io vi assolutamente vi ascolterò. Cominciamo subito. Il bianco è il fan che mi ha inviato la partita, ha giocato D4, D5, C4, quindi gambetto di donna. Gambetto di donna che abbiamo qui sopra il video, gambetto di donna di 10 minuti, in cui addirittura ho chiesto a un maestro internazionale di spiegarvelo, quindi veramente un video fantastico. Quindi poi magari a fine video vi lascio il link in sua impressione in cui potete andare a vedere questa apertura spiegata con i principali piani in 10 minuti, in una delle mie rubriche più famose. Cavallo C3, f6, sviluppo normale dei cavalli, va benissimo. Cambio dei pedoni, ok, al filo D5, mi piace, alla fine inchioda il cavallo. Beh, freccia sbagliata, inchioda il cavallo. E sappiamo che comunque un inchiodatura è sempre una cosa spiacevole, fastidiosa per l'avversario, quindi ottimo farlo. C6, E3, ok, al filo F5. Si continua con il normale sviluppo. Donna F3 interessante, attaccando l'alfiere. Va bene, probabilmente qui lo sviluppo normale con al filo D3, cavallo F3 a rocco è quello più semplice e più tranquillo, però essendo comunque il centro chiuso si può anche muovere la regina in apertura. Non vedo grandi attacchi che può fare il nero. File G6, filo F6. E l'idea è interessante perché effettivamente facendo così, dopo il cambio di regina, guardate qua, il nero si ritrova con i pedoni nel lato di re completamente deboli. Sono F7 e F6 doppiati e isolati, H7 e isolato. Quindi, interessante questa idea. Anche se in cambio cosa ha ottenuto il nero? Ha la coppia di alfieri. Coppia di alfieri che potrebbe essere un vantaggio in quali casi? Nei casi in cui si ha il gioco aperto. Finché i pedoni di 4 e di 5 chiudono il centro, questi due alfieri non è che fanno granché. H4, ok. Subito si vuole attaccare, anche se io qui sinceramente provirei sviluppare i pezzi. Per esempio, anche a Roccolungo, idea alfieri di 3, così subito si va a cercare di cambiare l'alfiere, potrebbe essere interessante. Oppure ancora, cavallo F3, idea cavallo H4 e poi si cattura l'alfiere, e poi qui è interessante. Anche se si toglie la doppiatura, potrebbe essere un'idea. Però, H4 non ci vedo nulla di male. H5. H5 si crea una forte debolezza, perché questo pedone è facilmente attaccabile in futuro. Immaginate, un cavallo va in G3, un alfieri in E2, questo pedone è veramente molto debole. Cavallo H3, idea cavallo F4, ok. Alfiere D6 per evitare cavallo F4, alfiere D2 attaccando H5, va bene, cavallo D7. G3, ok, a Roccolungo. Re in D2, interessante scelta del bianco che vuole mantenere al centro, e va bene. Non ci vedo nulla di male, perché ormai siamo ancora in medio gioco, però non essendoci le regine in gioco, essendo anche il centro chiuso, si può assolutamente tenere al centro, quindi va benissimo. Torre in E8, ok. Andiamo avanti. Alfiere D3, torre in E7, torre in C1. E secondo me è questo il piano corretto, cioè io stavo pensando un piano di attacco nel lato di donna. Quindi anziché G3, H4, più questo attacco. Vediamo come si evolve. Cavallo in E2, F5. Guardate, questo alfiere è terribile, è chiuso dai suoi stessi pedoni. È un pedone praticamente, forse anche peggio. Quindi qua assolutamente il bianco mi piace molto di più. Con l'F4, con l'F6, A3, torre in E8. Le torre sono raddoppiate, ma sono una colonna completamente inutile, perché il pedone è super difeso. B4, corretto. Il bianco deve raddoppiare e cercare di aprire le colonne A, B, C e creare questo attacco. Mi piace molto come sta giocando il bianco. A6, torre in B1, cavallo in E4. Alfiere per R. Non so. Non so se è alfiere per R. No, sinceramente non mi piace alfiere per R4. Io qui avrei giocato rene 1, perché questo alfiere è molto forte. Innanzitutto è l'alfiere buono. Che significa? E' l'alfiere che è di colore opposto alle case in cui sono i pedoni. Tutti i pedoni, vedete, sono su casa scura. Quindi questo alfiere è liberissimo di muoversi. Quindi questo alfiere lo terrei. Rene 1 difende il penone F2 e poi si cerca di fare A4, B5 e si attiva. Qui l'alfiere per R4 sono le prime in precisione. Penone per R, A4, C7, B5, alfiere per F4, cavallo per F4. Anche se la coppia di alfieri è nettamente migliore coppia di cavalli, ma essendo il gioco così chiuso c'è veramente poco e il nero addirittura decide di dare l'alfiere per il cavallo e si trova in una situazione in cui vi è cavallo forte contro alfiere cattivo. Vedete che l'alfiere del nero è... tutti i pedoni del nero sono sullo stesso colore dell'alfiere campo chiaro. Quindi l'alfiere è veramente terribile. Non può fare assolutamente niente. Poi sapete nei commenti anche se questo concetto di alfiere buono e alfiere cattivo vi è chiaro. Se volete che porto magari dei video in cui ve lo spiego brevemente. È un concetto che spiego molto nel corso di gruppo, infatti i miei allievi sono sicuro che mi stanno seguendo alla perfezione su questo video. Se siete interessati a partecipare al corso trovate in descrizione il link, il form Google con tutte le informazioni e il modulo per iscrivervi. Se le domande contattatemi su Instagram o Facebook. Quindi ho il B5, perone per R, Re in C8. B6 mi piace molto. B6 mi piace molto perché la con A si è aperta, B6 fa in modo di fissare la debolezza in B7 e controllare le case C7 e A7. Quindi dopo immagino che arriva una torre in A8, arriva l'altra torre in A1 e secondo me se questo perone B7 cade, probabilmente si può anche portare il cavallo a supporto, il cavallo nella casa C5. Vedete che la casa C5 è scura, quindi questo alfiere non potrà mai cercare di cambiare il cavallo e il perone B7 rischia di cadere. Quindi qui già netto vantaggio da parte del nero che ha commesso un errore. Qui vedo subito che il bianco ha una mossa praticamente vincente. Se vi va per allenarvi mettete pausa al video e cerchete di trovarla. Cavallo per D5, mossa corretta che il bianco trova subito. Perché? Perché il perone C6 è inchiodato. Torre in E6, anche qua altro errore, se volete pausa il video. Cavallo C7, il bianco gioco alla perfezione. Qui io direi che siamo anche sui 1800 come punteggio elo. Cavallo per, pedone per, torre in C5 e qua già la partita è nettamente vinta. Inizio ad andare un po' più veloce. Vediamo se non ci sono cataclismi, ma qui secondo me il bianco vince subito. Ah, bella! Non l'avevo pensato, mi era sorpreso. Bella, bella mossa, torre per C6. Non mi è venuta in mente. Perché? Perché sfrutta il fatto che il perone B6 è molto vicino alla promozione. L'alfiere non può in nessun modo controllarlo e il re sarà fuori al quadrato. Bella mossa. Bella mossa, torre per C6. Torre per, re per, B7 e qui partita finita. Wow! Penso che è giocato benissimo, assolutamente. Unica in precisione quella rene 1. ma parliamo proprio di dettagli e a questo punto sono molto molto in difficoltà per provare a indovinare il punteggio elo che però secondo me siamo sicuramente ad un punteggio elevato. Quindi sicuro sopra i 1.700, proprio lo do per assodato, anche se poi sbaglio come nella maggior parte dei casi. Però per come hai giocato questa partita, sicuramente se non ho messo sopra i 1.700. Allora, prima di cliccare, provate anche voi a indovinare e magari ditevi nei commenti. Quindi commentate in questo momento e dite quale punteggio secondo voi ha il bianco, che è il fan che ha inviato alla partita. Se volete anche voi partecipare a questa rubrica, scrivetemi su Instagram o Facebook e inviatemi il testo delle mosse. Quindi banalmente dovete fare un copia e incolla da C6.com, l'ICS e del PGN. Poi il colore in cui siete, quindi se siete bianco o nero, perché io non clicco nel link, quindi poi vi chiedo anche il link. Ma io non clicco nel link finché non analizzo, quindi solamente in questo momento, in diretta con voi. Clicco nel link e quindi dico punteggio 1.800. 1.800 per me, ultima risposta. Clicco nel link e vediamo qual è il punteggio. È 2.000, effettivamente potevo dire anche 2.000, sì sì sì, no ma assolutamente corretto. Ho detto 1.800 perché fino ad ora, penso che è la prima volta che un 2.000 mi invia una partita. La maggior parte delle persone che mi segue, a suo capito bene, ha un punteggio inferiore a 1.800, 1.800 e quindi perfetto 1.800. Ma hai giocato assolutamente da 2.000. Partita perfetta. Quindi, super complimenti a LordEnzo093. Per mi sapere nei commenti se ti è piaciuto questa analisi di questa partita, hai giocato benissimo e faccio sapere se il tuo punteggio è anche magari aumentato via via. Ci vediamo alla prossima, vi chiedo di lasciare un like se vi piace il video, iscrivetevi al YouTube e di guardare il gambetto di donna in 10 minuti che vi lascio qua in sua impressione. Ci vediamo alla prossima, ciao!